Le gomme invecchiano anche se inutilizzate. In particolare, le ultime generazioni di pneumatici invernali invecchiano e si cristallizzano molto velocemente perché nella mescola c'è sempre meno caucciù e sempre più materiale di riciclo e in soli tre anni possono arrivare a perdere circa il 50% delle caratteristiche costruttive di aderenza iniziali e si possono verificare dei consumi anomali dal battistrada anche con perdite di materiale. La maggiore aderenza che si ottiene applicando i prodotti Black Traction sulle gomme, anche i soli pneumatici anteriori che sopportano tutto il carico durante la frenata, è documentata con un miglioramento dell'aderenza e una riduzione dello spazio di frenata. Per fermarsi, il suo asfalto sia asciutto che bagnato di circa il 25%, equivalente a circa 5 metri, e misurato con sofisticati strumenti di misura degli studenti di ingegneria dell'Università di Modena. Gli innovativi unici e brevettati prodotti Black Traction ti permettono di risparmiare e avere sempre il massimo dell'aderenza e controllo possibile perché vengono assorbiti in profondità dalla gomma e ripristino nella mescola le sostanze perse con l'invecchiamento e l'ossidazione. La durata d'effetto è di vari mesi e quando l'effetto termina, l'applicazione può essere ripetuta fino al raggiungimento della completa usura del pneumatico. E comunque l'aderenza non è peggiore rispetto a prima dell'applicazione, cosa che invece avviene con molti prodotti concorrenti. Gli innovativi e brevettati prodotti Black Traction sono frutto dell'esperienza maturata in oltre 30 anni di collaborazioni nelle competizioni di auto e moto, e sono ora a tua disposizione per aumentare la sicurezza stradale. Li puoi acquistare sul sito Black Traction e ricevere comodamente a casa, ma non li trovi su piattaforme come Amazon. Grazie per la visione!